Non c'è voluto molto tempo prima che si arrivasse a pensare che è sempre la solita storia. Cancellata dallo schermo per decenni, la personaggio lesbica ormai calca le scene con inedita non-sharanse. Vive nel presente, forse ancora troppo poco proiettata nel futuro, si è saldamente radicata nel passato. Proliferano i biopic, i film in costume, che spesso mischiano realtà e finzione, inserendo elementi imprevisti alla rappresentazione stantia e ammuffita della donna, che serve sullo schermo solo se in relazione, anche tossica, con un uomo. Ormai è sfondato anche il muro delle epoche prima del Novecento, le lesbiche godono, in tutti i sensi, di un'inedita visibilità. Tuttavia ha ragione chi tra capelli a cilindro, corsetti, gonne, sottogonne e altre amminità individua uno schema ripetitivo e monocorde, che più o meno presenta due donne che vivono ai margini letterali o metaforici della società, tendenzialmente una bionda e l'altra mora, e con una sensibile differenza di età. È quasi sempre il mare, freddo e in ospitale, tanto quanto l'iniziale diffidenza, che si sa che le donne non solidarizzano mai. Tanti sguardi, prima furtivi, poi audaci, qualche lieve poggiare di mano su una spalla, o sul collo, o su una gamba, e la tensione molto erotica aumenta, si infiamma, per poi estinguersi che il mondo là fuori ancora si declina tutto al maschile. È un viaggio nel tempo, questo episodio di Euronimo del 1959, che faremo insieme a tutte quelle che vere e finzionali ci stanno dando, nel bene e nel male, il senso di una storia. Il lesbismo ha assunto in questi anni una rilevanza senza precedenti sugli schermi mainstream occidentali. A lungo la cinematografia ha imposto alla lesbica di sbirciare negli angoli polverosi e bui della narrazione, per immaginarsi come possibile in una scena in cui sembrava non esserci posto. Non era difficile prevedere il finale, la lesbica poteva solo finire in prigione, un sanatorio, o meglio ancora sotto terra. Non stiamo ancora tutte bene, ma oggi la spettatrice lesbica può finalmente lasciarsi attraversare, da paure e speranze, delusioni desideri, decessi e risurrezioni. Questo è Rino 1959, io sono Federica Fabiani, incollata da anni allo schermo del cinema e della tv, per scovare percorsi inediti tra reale e immaginario. Sono ormai molte le critiche ai lesbian period drama, i film lesbici in costume, a volte vere e proprie biografie di personaggi realmente esistite, altre volte più spesso, direi, storie completamente inventate. È vero, e lo scrive molto bene ad esempio la giornalista Lisa Iseva in The Rise of the Lesbian Period Drama, che questo tipo di narrazione si è incastrata in una formula che si sta ripetendo troppo spesso, anche se secondo me i risultati sono buoni, in alcuni casi anche ottimi. Se ne è cominciata a parlare, e direi in termini entusiastici, con il ritratto della giovane in fiamme di Céline Chammat. Non è certo il primo film lesbico in costume, e tuttavia ha decisamente rotto il muro di silenzio che in genere circonda la filmografia tematica lesbica. La si conosce molto bene nei circuiti dei festival LGBTQ+, ma difficilmente occupa lo spazio del mainstream. Altri film hanno varcato questo soffitto di cristallo, ma a parte il fatto forse non irrilevante di essere in genere diretti da registi maschi, hanno sempre un nome di richiamo, una grande attrice che da sola attira l'attenzione di pubblico e critica. Come la favorita di George Lantimos, anche se qui le relazioni rientrano nella categoria del potere e non dell'amore, con Olivia Colman, Carol di Todd Haynes, anche se non sono sicura che lo inserirei, come trovo spesso in vari articoli online e nei film storici, con Cate Blanchett. E anche il recentissimo Ammonite di Francis Lee, la distribuzione inciampata sulla pandemia, con Cate Winslet. Appunto il grande nome, l'attrice di richiamo, per soleticare la curiosità morbosa del pubblico generalista sulla relazione lesbica. Maya, affermato Winslet, le era stato chiesto con tanta insistenza, dettagli e sensazioni sulle scene di sesso con Source Ronin in Ammonite. And actually different words, I think, are used to sometimes describe a heterosexual love scene versus a same-sex love scene, particularly same-sex love scenes with women. You know, words like, words like saucy, titillating, you know, like these kind of like almost porn dated words will be wheeled out time after time. And I think everyone needs to take a little responsibility for being a bit more sensitive and mindful of their words. Why can't it just be two women who are wildly passionately in love with each other? Why does it have to be saucy and titillating and erotic? Appunto, sono sempre scene allusive, eccitanti, erotiche, che immediatamente oggettificano le protagoniste, appiattendoli su un registro di puro piacere visivo o aieristico. Ora, io non voglio entrare nella questione dello sguardo maschile, ricordare Laura Malve, e sostenere che il piacere visivo è negativo. Però sono anni, sia sufficiente ricordare la studiosa Mandy Merck nel 1986, che sappiamo che la scena d'amore tra due donne ha una funzione simbolica imprescindibile, ossia la capacità di rappresentare l'esperienza lesbica, la sua vera rappresentabilità. La scena del sesso, ne è stato esempio eclatante il film La vita di Adele e di Keshish, pone il paradosso della rappresentabilità dell'esperienza lesbica. Se da una parte è impossibile da rappresentare per chi pornografica, e quindi non può essere reale, dall'altra è l'unica cosa che fa un film lesbico, perché appunto il sesso determina l'esperienza lesbica to cure. Sono la pittrice. Ma sto divagando e torno alla Giovane in Fiamme, di cui piccola anticipazione, spero che si riparlerà quando uscirà una monografia su Selin Shammat, che curo con Chiara Zanini, che sarà pubblicata dall'editore Asterisco. Ambientato nella Francia del XVIII secolo, il ritratto della Giovane in Fiamme racconta l'incontro tra una pittrice, Marianne, Noémie Merlin, e una giovane donna, Eloise, Adele Nel, promessa sposa a un facoltoso uomo italiano che riceverà indotti il ritratto della ragazza. Eloise è riluttante, non vuole diventare l'oggetto dello sguardo della pittrice, e soprattutto non vuole diventare merce di scambio per una vita che non sta scegliendo e che tuttavia subirà. Un film politico che porta in primo piano un immaginario femminista e lesbico che, nel tempo sospeso della memoria, dà voce alle storie delle donne. Perché questo è il punto, testimoniare quando ci sono fonti e documenti o inventare, quando poco o nulla è passato dalle maglie strette della storiografia dominante. E non a caso il film presenta due differenti temporalità. Il tempo della storia d'amore tra le due donne, un rapporto che cresce nel desiderio reciproco e consensuale, e un altro tempo che si insinua nella narrazione perché la spettatrice sa fin dall'inizio che quello che sta guardando è un ricordo e che su questo ricordo grava un rimpianto. Provo un nuovo sentimento, il rimpianto. Una scelta narrativa che certo è molto efficace nel creare una partecipazione emotiva nel pubblico, ma che soprattutto porta a pensare a quante storie di amore lesbico e di grandezza artistica femminile manchino all'appello. E Shama questa storia se l'è dovuta inventare, non l'ha neppure adattata da un libro, perché appunto questo libro non è mai stato scritto. E devo dire che questo dovere inventare per l'impossibilità di ricostruire la storia attraverso fonti documentali mi ha fatto tornare alla mente l'operazione che fece Cheryl Dany nel 1996 con The Watermelon Woman. Il film ambientato nel presente esplora il processo di realizzazione di un documentario su un'attrice di colore, Faye Richards, appunto The Watermelon Woman, che negli anni 30 aveva lavorato spesso in quei tipici ruoli che venivano affidati alle attrici nere. Dany, che è la regista lesbica e nera del film e anche la sua interprete principale, scopre con massima gioia che Faye Richards era anche lesbica. Una gioia offuscata ovviamente dalla cancellazione dell'orientamento sessuale dell'attrice, dalla reiterazione dello stereotipo della donna di colore nei film hollywoodiani e dalla totale mancanza di riconoscimento anche solo nei titoli di coda del film. Di nuovo la necessità di una ricostruzione storica per chi non ha avuto il privilegio di essere una voce narrante, che anche in questo caso rivela la necessità di inventare, perché si tratta di un libro che nessuna ha mai scritto. Su Mary Henning, invece, è stato scritto molto. Se si fa anche una veloce ricerca su Google si ottengono molte ricorrenze a suo nome. L'importante paleontologa vissuta ai primi dell'Ottocento non ebbe comunque accesso all'establishment scientifico del tempo perché donna. La sua storia è raccontata anche in un romanzo Strane creature di Tracy Chevalier uscito nel 2009 e pubblicato in Italia da Neri Pozza. Ma quel che forse ci interessa di più adesso è il film Ammonite in italiano come un'onda del mare del regista Frances Lee con due interpreti di eccezione una l'ho già detta, Kate Winslet nei panni di Mary Henning e l'altra è Sorcery Ronin che interpreta Charlotte Murchison. Mi piace ricordare che ci sono altre due attrici straordinarie Fiona Shaw che molte forse ricorderanno in Killing Eve una molto vicina di casa e non solo e Gemma Jones la madre di Mary che è la zia anche in questo caso prevale la parentela biologica di Anne Lister in Gentleman Jack un altro biopic in costume di cui comunque non dirò nulla avendo già dedicato una puntata a questa straordinaria figura storica. Quindi in questo caso una personaggia reale su cui però il regista non costruisce una narrazione biografica pedissequa ma lascia libero spazio all'inventiva c'è infatti una presunzione di lesbismo in questo film non essendoci prove di relazioni sentimentali il regista ipotizza che fosse lesbica e mette in scena la relazione tra Henning e Murchison e la questione pone forse qualche problema storiografico che come è facile immaginare nel mio caso non riguarda il lesbismo in mancanza di fonti perché dover presumere la sua eterosessualità tuttavia c'è un'effettiva alterazione della realtà storica che può essere fuorviante Charlotte Murchison ad esempio è presentata come una donna debole e traumatizzata da un evento luttuoso che nulla racconta del suo essere a sua volta importante paleontologa certo si incontrarono perché Charlotte e il marito Roderick Murchison si recarono davvero a Lime Regis la cosiddetta Jurassic Coast in Inghilterra per incontrare Mary Henning e davvero Mary insegnò a Charlotte a cercare fossili come ben riporta History Extra della BBC è interessante sottolineare che la vera Charlotte Murchison era in realtà circa un decennio più vecchia di Mary Henning quindi è possibile che la versione di Lady Murchison sia ispirata ad un'altra figura storica la quattordicenne Frances Augusta Bell che andò a sua volta a Lime Regis per motivi di salute che seguì Henning sulle scogliere a caccia di reperti I knew I didn't want to make a documentary or a biopic and at the same time I discovered through research all these fantastic letters between women of the period and these letters were kind of passionate and loving and emotional and I wanted to look into a same-sex relationship within this patriarchal class-ridden society Ma potremmo continuare a lungo mischiando biopic e drammone in costume The World to Come un film del 2020 diretto da Mona Fastwald presentato in concorso a Venezia The Handmaiden un film del 2016 diretto da Park Chan-wook ispirato al romanzo ladra di Sarah Waters senza dimenticare poi le miniserie della BBC tratte appunto dai romanzi di Waters Fingersmith e Tipping the Velvet Ma la lista è davvero lunga Colette di Wash Westmoreland Vitae Virginia di Chania Baton Wild Nights with Emily di Madeleine Olnek e ancora Bessie Viola di Mare interno berlinese Amy and Jaguar Nelle odierne rappresentazioni forse solo la serialità televisiva riesce a smarcarsi da questa tendenza il passato sembra essere più interessante del presente in cui forse è più difficile rappresentare la vergogna la paura l'isolamento la violenza che tanto contribuiscono a creare il conflitto su cui si gioca l'intreccio e la caratterizzazione delle personagge ma per capire meglio come, quando e perché il passato lesbico è diventato oggetto di interesse per il grande schermo ho pensato di fare qualche domanda alla storica Maya De Leo che insegna all'Università di Torino storia dell'omosessualità primo corso di questo genere in Italia ed è autrice di Queer storia culturale della comunità LGBT in uscita per Ainaudi il 25 maggio io Maya direi che non si può certo più dire che la lesbica non sia presente sugli schermi dalla totale invisibilità allo stigma della perversione o della pazzia e ormai da qualche anno che c'è esiste e si vede soprattutto nel passato basti pensare e ne ho già un po' parlato al ritratto della Giovane in Fiamme a Monite The World to Come o anche alla serie tv Gentleman Jack e già si levano voci critiche e meme satirici su questi lesbian period drama i film in costume lesbici che iniziano ad avere qualche elemento in comune di troppo sono donne bianche sole una bionda e una mora e c'è il mare quasi sempre un piano forte un iniziale di fidenza che poi ovviamente si trasforma in desiderio qual è secondo te la ragione di questa improvvisa passione per la vita lesbica di altri tempi una possibile ragione della fortuna di film di questo tipo credo risieda nel fatto che la narrazione storica è un potente strumento di validazione identitaria cioè rappresentare una soggettività lesbica nel passato equivale a lanciare un messaggio al pubblico in generale ma anche un messaggio particolare rivolto a chi oggi si definisce lesbica che dice e permette di dire a chi lo riceve siamo sempre stati qui e siamo qui da sempre solo che finora ci avevate censurato inoltre immaginarsi nel passato rafforza anche un'identità collettiva cioè un'identità genealogica della comunità cioè l'idea di avere delle ate no? diciamo così è un'idea che rappresenta un altro elemento fondamentale nei percorsi di costruzione identitaria per quanto riguarda quegli elementi ricorrenti a cui accennavi tu è interessante notare come si tratti di topo dei narrativi che sono presenti già nelle rappresentazioni letterarie del lesbismo nell'ottocento classici come ad esempio quello della coppia strutturata attorno ai due poli della mora in genere più virile intraprendente e della bionda diciamo così più femminile si ritrovano già in una forma completa inclusa la distribuzione dei colori dei capelli nei romanzi che per primi danno una certa visibilità al lesbismo cioè quelli di fine ottocento che tra l'altro creano anche un certo allarme sociale proprio attorno al lesbismo ne cito due che sono quelli che analizziamo anche a lezione uno del 1870 del francese Alphonse Bellot Mademoiselle Giraud Maffam e uno invece italiano del 1877 al di là di Alfredo Oriani si tratta infatti di topoi creati e diffusi proprio con intenzioni stigmatizzanti è interessante vedere come siano adesso riappropriati e risignificati una delle strategie di resistenza dei soggetti stigmatizzati in questo caso le lesbiche o meglio le tribadi le invertite come si diceva con il lessico del tempo è stata proprio quella della riappropriazione della significazione della rivendicazione orgogliosa di queste rappresentazioni di durevole fortuna anche quelle ambientazioni sempre che dicevi tu che collocano le relazioni lesbiche fuori dall'ordinario come appunto il rivallo ceone eccetera sono tutti scenari utili a farne storie senza tempo e a conferirgli quell'aura di in realtà che ne accresce il carattere romanzese tra l'altro si può forse evidenziare anche un problema di attendibilità storica e di conseguenza di possibile fraintendimento di personaggi del passato realmente esistite già l'elemento finzionale edulcora alcuni aspetti ad esempio della personalità di Enlister in Gentleman Jack che avrebbero forse potuto indispettire il pubblico ma è forse soprattutto in Ammonite che questo aspetto diventa rilevante c'è la presunzione di lesbismo di Mary Henning dal momento che non si hanno notizie né di sue relazioni etero o lesbiche e c'è anche la riduzione a comparsa romantica di Charlotte Murchison che invece fu appunto come ho già avuto modo di dire una paleontologa di rilievo da storica come vedi queste alterazioni che molto servono alla rappresentazione ma certo poco aiutano nella ricostruzione se è vero che questo elemento importa o è utile della presenza lesbica nella storia dunque allora davanti alle opere di fiction diciamo che in genere riesco a mettere da parte diciamo così la storica che in me prediligo per esempio la coerenza narrativa interna sull'attendibilità storica d'altra parte queste operazioni di edulcorazione che dicevi tu fatte per venire incontro ovviamente ai gusti del pubblico contemporaneo non posso fare a meno di fronte a queste operazioni di constatarne l'effetto di addomesticamento delle figure del passato che spesso ne deriva quando questo succede il rischio più grande è quello di appiattire la complessità del passato sulle esigenze delle narrazioni attuali di forzare cioè il passato dentro una narrazione che risponda meglio alle nostre aspettative però in questi casi quello che mi dispiace di più oltre alla rinuncia alla complessità storica che comunque credo sia abbastanza inevitabile in una narrazione che contiene elementi di finzione è quello che è una specie di tendenza quasi a compensare le presunte insufficienze del passato cioè quasi come se i personaggi le personagge del passato avessero bisogno di noi che dal presente dal futuro cioè dall'oggi andiamo a insegnare loro come si fa a essere veramente lesbiche cioè come ci si comporta in certe situazioni e si assiste a un'infantilizzazione diciamo così si sottrae agency ai soggetti del passato la seconda questione che ponevi è quella della presunzione di lesbismo per le donne del passato di cui non abbiamo evidenze documentarie in questo senso questa possiamo dire che rappresenta proprio una questione cruciale per la storiografia sul lesbismo infatti la ricerca storica sul lesbismo è caratterizzata proprio da una scarzezza di fonti dirette soprattutto per le epoche precedenti a quella contemporanea anche se in realtà anche per tempi molto vicini al presente quindi chi vuol fare questo tipo di storiografia si trova nella necessità di aggirare un po' la richiesta della prova documentaria quella prova necessaria a invalidare la presunzione di aterosessualità delle donne del passato chiaramente la presunzione di aterosessualità di default per le donne del passato certo in storiografia non si può inventare quindi si deve partire da altre fonti magari letterarie o iconografiche o da piccolissimi accenni o tracce lasciati nei documenti nella fiction invece si può inventare il problema è proprio come dicevo prima quando si inventa proiettando le nostre aspettative sul passato no? a questo proposito mi viene in mente un'altra serie che non ha il nominato che è Dickinson in cui la poeta Emily Dickinson è descritta con una serie di anacronismi che a volte sono più riusciti e divertenti altre volte meno ma insomma è descritta in termini estremamente attuali quelli di una ragazza ribelle anticonformista e queer ebbene mi sembra che al di là dell'effetto più o meno riuscito nel complesso è l'operazione deludente perché anziché esaltare l'unicità del personaggio storico che era veramente rotta di collisione con tutte le aspettative di genere del suo tempo anche se non abbiamo prove effettive della sua queerness anziché esaltare appunto questa unicità la narrazione finisce per depotenziare la figura di Emily Dickinson che appunto resta schiacciata su istanze contemporanea in realtà questa impostazione è quella a cui accennavo prima che tradisce la nostra concezione della storia come progressiva e lineare in cui il traguardo ultimo della libertà della liberazione è quello che stiamo tagliando noi adesso nel presente quando invece sappiamo che insomma non funziona sì sono assolutamente d'accordo sulla serie tv Dickinson che usa sostanzialmente la poeta come una sorta di avatar attraverso cui guardare e rappresentare il mondo attuale con scarsa o quasi nulla attenzione alle fonti storiche anche a quelle non ufficiali e su Emily Dickinson secondo me ha fatto davvero un ottimo lavoro Madeleine Onnek con il film Wild Nights with Emily e sempre parlando di critiche che si sono allevate nei confronti di questi film in costume o biopic c'è direi soprattutto la questione della bianchezza perché è evidente che posizionare le donne bianche al centro di questo tipo di narrazione non solo restituisce un'immagine parziale del passato ma si sottrae in qualche modo la richiesta di inclusività e intersozionalità che è un tema molto all'ordine del giorno e che sempre scatena vera e proprie guerre di religione perché su questo si concentrano le voci critiche se questi film diventano il modello di come era la vita lesbica nel passato è abbastanza chiaro che le lesbiche nere tornano ad essere le outsider di lordiana memoria tu che cosa ne pensi? Sì è così è così questo però ha a che fare più con il modo in cui noi immaginiamo il passato che non con il passato in sé ovvero tendiamo a immaginare il passato come appunto bianco borghese cis eterosessuale perché siamo abituate abituati abituato a studiare la storia in un certo modo cioè da una certa prospettiva che privilegia determinati tipi di fonti determinate questioni determinati personaggi visto però che siamo capaci di inventare di immaginare per riempire le lacune dei documenti e delle tracce mancanti per scrivere appunto le storie lesbiche credo che siamo anche in grado di immaginare e raccontare un passato più diversificato in realtà credo che questa omogeneità rispecchi in realtà l'omogeneità di chi scrive le storie la presenza di autrici non bianche di autrici nere penso che cambierebbe anzi meglio cambierà le cose e in questo senso mi sembra che abbia ragione e mi riferisco a un articolo su Film Days di Nia Tucker chi afferma che l'immagine della donna bianca sia sempre in qualche modo presentata come fragile e innocente e per questo meritevole di essere ricordata con una certa benevolenza anche se è lesbica in sostanza una vittima del suo tempo ma una vittima di successo se mi passi lo simoro a questo proposito ultimamente ho visto tre film meravigliosi sulle cantanti blues Bessie un film per la televisione del 2015 diretto da Dee Rees sulla cantante Bessie Smith Ma Rainey's Black Bottom del 2020 diretto da George Wolfe su Ma Rainey e il recentissimo The United States vs. Billy diretto da Lee Daniels e questi sono appunto tre biopic che pur presentando chi più chi meno la bisessualità delle protagoniste molto raccontano della doppia marginalizzazione sono donne e sono donne nere delle protagoniste e appunto qui facendo un paragone con i film con le protagoniste bianche c'è un elemento di maggiore afflizione la droga l'alcol gli abusi e queste donne diventano vittime perdenti e viene presentata in sostanza la realtà in tutta la sua crudezza tu pensi che appunto questo modo di vedere la differenza tra le protagoniste bianche e nere abbia un qualche fondamento? Sì sono d'accordo sono d'accordo la bianchezza è immaginata come il suo strato neutro sul quale è possibile scrivere le storie diciamo così perfette cioè quelle storie in cui il lesbismo delle protagoniste è tutto ciò sul quale possiamo concentrare la nostra attenzione di fruitrici e anche identificarci nel caso invece delle donne nere mi sembra che la narrazione non miri all'identificazione e questo secondo me perché il pubblico delle fruitrici continua a essere immaginato ancora come maggioranza bianco inoltre in queste storie come notavi tu il lesbismo la bisessualità sono elementi introdotti per alzare il tasso del pathos e inoltre all'interno di storie che non lo mettono comunque al centro io ad esempio ho visto ma rain is black bottom e sebbene la performance di Viola Davis sia straordinaria il personaggio che recita non è certo al centro della narrazione il lesbismo poi è solo accennato e l'unica scena di sesso a cui assistiamo è quella eterosessuale io penso che i film che sono stati citati raccontino comunque anche molto altro oltre alla storia personale alla storia collettiva e io devo essere sincera a me sono piaciuti più o meno tutti il ritratto della giornata in fiamme ad esempio molto dice delle donne artiste e di come lo sguardo possa orientare l'interpretazione di un evento di una storia basti pensare alla scena dell'aborto Amonite che ha forse più buchi narrativi permette comunque di posizionare il ruolo di una studiosa importantissima che in quanto donna e donna della working class quindi donna povera non aveva praticamente la favorita in cui i rapporti lesbici molto dicono dei rapporti di potere che si stabiliscono anche tra donne e di cui si tende a parlare poco e Gentleman Jack porta alla luce la storia straordinaria di una donna che davvero non si è conformata alle regole della cultura patriarcale tuttavia di questi film e di molti altri più o meno mainstream e famosi l'attenzione è quasi unicamente sull'aspetto romantico e sessuale che lega le protagoniste Kate Winslet ad esempio ha messo in un'intervista che mai era stata così tanto interrogata sulle scene di sesso quanto è difficile raccontare la storia all'EGBTQ sì anche a me sono piaciuti tutti molto certo c'è da dire che sono cresciuta in assenza di rappresentazioni quindi ogni rappresentazione per me acquista sempre il valore aggiunto dell'ampliamento della diversificazione delle rappresentazioni all'EGBTQ certo la centralità delle relazioni romantiche e sessuali significa che i personaggi le personaggi restano sempre schiacciate sulla loro sessualità e quindi sempre un po' bidimensionali in questo senso mi sembra che la sfida della storia l'EGBTQ sia proprio questa e cioè scrivere storie che non si limitano a restituire relazioni romantiche o sessuali e nemmeno biografie la pervasività della presenza delle persone queer nel passato e con queer utilizzo queer come termine ombrello per indicare qui tutte le persone che in vari modi non erano allineate alle norme del loro tempo in materia di genere e sessualità questa presenza appunto è stata occultata con un gran lavoro di censura portato avanti con omissioni ma è anche il risultato del privilegio accordato a determinati argomenti di ricerca determinati criteri metodologici di selezione e validazione delle fonti come dicevo prima tutte queste scelte hanno di fatto escluso la possibilità di parlare dei soggetti queer ma hanno anche avuto ricadute sulla rappresentazione sulla narrazione proprio del passato in generale in questo senso quindi mi piacerebbe che in storiografia come nel cinema nelle serie tv parlare di lesbismo di sessualità queer fosse anche un modo di aprire alle soggettività più diverse la possibilità di raccontare le storie più diverse di arricchire con la loro presenza e il loro intreccio proprio la nostra più generale visione del mondo e se dovessi scegliere un film in costume o biopic quale sceglieresti e perché? ci ho pensato e continuano a venirmi in mente gli adattamenti dei romanzi di Sarah Waters gli adattamenti dei primi anni 2000 fatti dalla BBC penso a Tipping the Velvet e a Fingersmith sono miniserie datate e secondo me assolutamente non all'altezza dei libri a rivederli ora poi mostrano tutti i loro limiti insomma però all'epoca ero una dottoranda in storia e stavo studiando proprio l'omosessualità e il lesbismo nell'ottocento e quindi ero calata proprio in quelle atmosfere vittoriane che Sarah Waters sa descrivere così bene nei suoi libri ma soprattutto era un periodo in cui la storia lesbica e LGBTQ in generale iniziava a rivendicare i suoi primi spazi accademici anche in Italia però di libri ce ne erano pochi e quindi quelle storie si sono trovate ad avere una parte importante nel nutrire la mia immaginazione storiografica perché anche la storia ha bisogno di storie e di immaginazione come ultima domanda visto che ne hai appena dato anche comunicazione su Facebook sta per uscire il tuo libro Queer la storia culturale della comunità LGBT che è pubblicato da Inaudi e io davvero non vedo l'ora di leggerlo ci anticipi qualcosa? il libro esce il 25 maggio ed è una storia delle identità e sessualità e LGBTQ più dall'inizio dell'età contemporanea quindi dal 700 al tempo presente in occidente quindi tra Europa e Stati Uniti in questa ricostruzione ho messo al centro dell'indagine quei processi che illuminano meglio la costruzione culturale e storica del nostro sistema di genere attuale con il suo binarismo all'interno del quale hanno preso forma si sono modellate le moderne categorie di genere per fare questo ho utilizzato tanti tipi di fonti diverse testi letterari medico-scientifici scritti politici e teorici dei movimenti LGBTQ sempre alternabili a memoria e testimonianze ho cercato di restituire una storia il più possibile complessa polifonica e diversificata mettendo al centro le variabili di classe e razza per dare una prospettiva per avere un'ottica intersezionale il più possibile nella sua struttura e nei contenuti il libro riprende il corso che ho ottenuto a Torino e quindi sono stati determinanti nella stesura il feedback dei e delle studenti che hanno confermato la centralità l'interesse di queste questioni sono molto contenta che anche un editore come Inaudi abbia riconosciuto l'interesse storiografico di quelle stesse questioni è un riconoscimento non solo per me ma anche una validazione per la storiografia e gli studi LGBTQ più degli ultimi 40 anni mi piace pensarlo anche come una restituzione alla comunità tutta di un lavoro che abbiamo fatto insieme fermo restando come si dice in questi casi che gli errori i limiti sono tutti di chi scrive siamo giunti alla fine di questo viaggio nel passato lesbico tra realtà e finzione alla ricerca delle tracce di una storia che ha ancora molto bisogno di essere raccontata ringrazio Maya De Leo per la competenza la passione e la disponibilità Rino 1959 il podcast delle visioni lesbiche on the road è un progetto ideato realizzato da me e da Giuliana Misterville che sempre c'è anche quando non parla alla prossima e grazie per aver ascoltato e grazie per aver guardato